Ben trovati sul mio canale YouTube, oggi per Grandangolo, lo spazio dove cerco di mettere a fuoco il mondo che ci circonda, parliamo insieme del forum a Teheran tra Iran, Russia e Turchia. Prima di cominciare vi ricordo però, come al solito, di iscrivervi per non perdere nessuno dei miei prossimi video e soprattutto di farmi sapere quello che è il vostro punto di vista nei commenti qui sotto. Basta vedere le foto di Putin, Erdogan e Raisi baldanzosi si stringono le mani a favore di obiettivi. Un forum che abbiamo detto non essere nuovo e anzi era già stato inaugurato qualche tempo fa per la risoluzione della guerra civile in Siria. In realtà non era molto pacifico ma serviva soltanto a delimitare le rispettive aree di influenza e coordinare quelle che erano le operazioni militari dei soldati in campo. Parliamo di tre potenze regionali, due potenze militari per quanto riguarda la Russia e la Turchia e parlando di Turchia anche di un'aspirante potenza economica. Erdogan è infatti un protagonista che fa sentire tutto il suo peso anche grazie all'ultimo successo che ha incasellato vale a dire la mediazione sulla guerra del grano. Papa Francesco lo ha definito qualche anno fa un conflitto mondiale a pezzi vedendo quello che è successo in Siria, vedendo la guerra in Ucraina, vedendo le sanzioni, vedendo la crisi energetica ma vedendo anche la guerra del grano non gli si può dare torto. è esattamente così. Iran e Russia invece riescono intanto a fare dimenticare chi conosce un po' di storia il fatto che i propri rapporti siano sempre stati abbastanza particolari se non addirittura tesi. La Russia ha sempre storicamente tentato di condizionare la vita politica in Iran ma in questo momento storico questi due paesi sono molto simili perché sono funestati da una pioggia di sanzioni occidentali che riusciranno a rendere la Russia molto più simile all'Iran di quanto essa stessa non creda. Molti osservatori infatti pensavano che sanzionare tantissimo l'Iran avrebbe portato alla caduta del regime degli Ayatollah che invece ancora oggi resiste ed esiste e a quanto pare se ne frega di quello che succede esternamente cosa che potrebbe accadere anche in Russia. Il successo diplomatico turco sta anche nel fatto che la Turchia è un membro di primo piano della Nato che ha rubato la scena a Emmanuel Macron che era l'unico capo politico occidentale a avere lasciato uno spiraglio diplomatico aperto rifiutando quello che era lo scontro Tukur. Questo forum vuole intanto mandare un messaggio a Biden all'indomani della sua missione in Medio Oriente ma lanciano anche un importante segnale a un'Unione Europea che a parte le sanzioni non è protagonista su nulla e il suo ruolo di mediazione o da mediatrice è inesistente. Chi dice che il mondo unipolare è finito ha forse ragione ma a me quello che interessa sapere è quello che è il vostro punto di vista quindi commentate e fatemi sapere che cosa ne pensate.